Isola di Burano e il presepe sull'acqua Visto la bella giornata ho deciso di fare un giro all'isola di Burano per mostrarvi delle immagini di una delle più belle isole della laguna di Venezia una scusa poi per vedere anche il nuovo presepe sull'acqua che hanno fatto là vicino. Partiti dalle fondamente nuove siamo passati per l'isola di Murano di cui vi lascio il video in alta destra alla scheda. Musica Dopo l'isola di Murano per una ventina di minuti abbiamo proseguito fino a riconoscere l'isola di Burano dal campanile che è storto, causa di un cedimento strutturale. Burano è famosa per la lavorazione artigianale ad ago del melletto, per le sue case colorate e anche per il tipico dolce bussolà, biscotto a ciambella giallo di uova, farina e burro. Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Particolare il presepe di fronte l'isola del fruttivendolo Francesco Razio di Cassavio, composto da 60 sagome di compensato pitturate che hanno come sfondo Venezia da vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, condividete e vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più. vi ringrazio. Vi ringrazio. Iscrivetevi al canale, condividete. 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 Grazie.